Un saluto ben ritrovati come state, vi invito come sempre a scrivervi sul logo qui a L, lasciate un bel like, commentate, buon lunedì, buona settimana, focus sul Milan con un fatto tanto atteso, significativo, tardivo perché nel frattempo il Milan ha perso punti, certezze e anche autostima a livello mentale che forse è la cosa che preoccupa di più al di là della proposta di gioco. Pioli si è convinto a cambiare dopo aver di fatto fatto riferimento ieri a questo in conferenza stampa, oggi abbiamo ottenuto conferme e quindi a partire dalla prossima gara, il derby di domenica sera, ci sarà un ritorno a un centrocampo a tre con un centrocampista in più, vedremo se è piazzato nei tre come mezzala o nel ruolo di trequartista come il Milan lo scorso anno giocava, mantenendo sempre il 4-2-3-1 con quei principi di gioco. Meglio tardi che mai, vero, però davvero qui è molto tardi. Devo dire che, insomma, chi segue il mondo Milan, addetti ai lavori, giornalisti, tifosi, credo che fosse questa una richiesta di tutti, unanime per quanto riguarda il passaggio a un centrocampo a tre. Pioli ha dovuto aspettare di prendere prima due, poi tre, poi quattro, poi cinque gol in una partita per cambiare, secondo me, peccando di presunzione tattica che di fatto ha portato a un calo costante delle prestazioni. Poi non è soltanto il passaggio a tre, per carità, oggi, secondo me, è più un fattore mentale, però intanto una cosa che puoi fare da un punto di vista di campo, sistemare un po' le cose, provare a essere un po' più equilibrato e tornare alle vecchie conoscenze che ti avevano permesso lo scorso anno di vincere lo Scudetto. Pastesco, che ci ha avuto così tanto tempo, finalmente, però, insomma, per il Milan si torna a questo, basterà, lo vedremo, è già qualcosa. Ditemi che cosa ne pensate qui sotto nei commenti, iscrivetevi qui, lasciate un bel like e ci vediamo presto per altri aggiornamenti, perché, insomma, arriviamo anche alla chiusura del mercato che forse qualcosina potrebbe riservare nelle prossime ore. Ricordiamo che chiude domani alle ore 20. Un abbraccio!